Gli ultimi casi di meningite nel Lazio hanno scatenato una sorta di psicosi. I centri di vaccinazione sono stati presi d'assalto, ma gli esperti rassicurano non esiste nessun allarme, la situazione è sotto controllo. Il servizio di Francesco Rosita. Nel Lazio non c'è nessun allarme meningite, così come non c'è la necessità di interventi straordinari diversi dai protocolli vaccinali previsti dalla regione. La rassicurazione arriva dal gruppo di monitoraggio sulla meningite, che nel 2016 ha rilevato una diminuzione dei casi rispetto all'anno precedente, con gli episodi di meningite meningococcica passati da 25 a 19. La meningite c'è sempre stata ed è una malattia grave, gravata di una mortalità tra il 10 e il 15%. Nulla è cambiato in termini di quello che succede in una regione come Lazio. I casi sono sostanzialmente stazionali da un po' di anni, non ci sono motivi di allerta. Gli ultimi casi in regione, in particolare il decesso del ristoratore cinquantenne originario dell'Atri, hanno innescato la corsa al vaccino, con alcune strutture della capitale prese letteralmente d'assalto. Io ho sempre vaccinati, quindi per me è una prassi, non è un'emergenza. Non diamo retta poi, secondo me, falsi miti, tipo l'autismo, eccetera. Non sono d'accordo e penso che invece la vaccinazione sia uno strumento molto importante. Troppe richieste, con la conseguenza che in molti sono dovuti tornare a casa.